Il velista pescarese Carlo D'Attanasio sotto accusa per un traffico di cocaina da 600 kg in Papua, Nuova Guinea, scrive al quotidiano Il Centro nell'articolo di Pietro Lambertini dopo l'arresto del fratello Arranciteglia Pescara e le intercettazioni che lo riguardano. Non parliamo da anni, dice, io e mio fratello non abbiamo nessuna relazione da tempo, ci sono stati solo sporadici contatti telefonici e quindi non sono a conoscenza della sua vita né lui della mia, perciò mi sembra davvero assurdo che abbia fatto il mio nome in questa vicenda. E' l'incipit della lettera scritta al centro da Carlo D'Attanasio, velista pescarese, arrestato come detto in Papua, Nuova Guinea per un presunto traffico di 600 kg di cocaina nel 2020 e ancora in attesa di un processo. Un caso, vista le condizioni di salute di D'Attanasio malato di un grave tumore, che ha mobilitato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani e la trasmissione Le Iene con diversi servizi. Carlo si è sempre dichiarato innocente, lo ha ribadito anche nei nostri servizi, in cui ha lanciato un allarme sulle condizioni in cui vive in carcere. Molte persone in una cella piccola, calda e soffocante, piena di polvere, sporca, il bagno completamente inesistente. Il ministro degli esteri Tajani, negli scorsi giorni, ha chiesto con una lettera alle autorità paponesi i rimpati urgenti di Carlo per motivi sanitari. La storia di D'Attanasio, bloccato a più di 13.000 km di distanza da Pescara e ricoverato in ospedale, si lega al caso del fratello Massimiliano, uno degli arrestati, nell'operazione giorno e notte con la chiusura di tre piazze di spaccio a Rancitelli il 18 ottobre scorso. Una serie di intercettazioni, leggiamo sempre sul centro, che sembrano avvalorare le accuse di traffico internazionale di droga contro Carlo D'Attanasio, ma lui dall'Oceania continua a rinnegare le accuse e a dichiararsi innocente. Negli atti di indagine sugli affari a Rancitelli, i carabinieri riassumono così un dialogo di Massimiliano D'Attanasio. Stando a quanto riferito da Massimiliano, il fratello Carlo sarebbe stato presentato all'organizzazione e da Claudio Dell'Orso per fare dei viaggi in Sud America trasportando cocaina. Dell'Orso, anche lui tra i 12 arrestati, è considerato uno dei fornitori della droga a Rancitelli e con la malavita organizzata probabilmente in drangheta, soprattutto calabrese. Il primo viaggio continuo e reso conto dei carabinieri sarebbe andato bene. Carlo avrebbe percepito circa 380 mila euro. Lo stesso avrebbe poi intrapreso un nuovo viaggio. Questa volta finito male, come riportano le cronache nazionali, con un sequestro di oltre 600 kg di cocaina in Papua, Nuova Guinea. La lettera di Carlo D'Attanasio replica così «Non ho mai ricevuto una somma di denaro così importante negli ultimi anni della mia vita e sicuramente non l'ho ricevuta per motivi legati al traffico di droga».